14 maggio 1970, con la liberazione di Andreas Baader da parte di Ulrike Meinhof, la Germania scopre la RAF, acronimo di Rote Armee Fraction. La RAF è un gruppo terroristico di estrema sinistra che ha come fine ultimo l'insurrezione armata. La RAF instaurerà rapporti con organizzazioni terroristiche di estrema sinistra in altri paesi, come le Brigate Rosse in Italia e Action Direct in Francia. La RAF viene anche chiamata Banda Baader Meinhof dal nome dei due principali leader.